Ciao ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio di The Sims 4, nuove stelle. Allora ragazzi, siamo praticamente, diciamo che l'episodio scorso, oddio cos'è? Rissa di quartiere, oddio. Diciamo che l'episodio scorso è stato molto commentato da voi perché c'è stata questa mancata proposta di matrimonio ragazzi tra il nostro Frank e la nostra Valerie. Ovviamente siete dei romanticoni e tutti, vedete lui è un po' triste, un po' teso, siete dei romanticoni e tutti vorreste assolutamente che loro finissero insieme, ovviamente, non avevo dubbi, musica spettrale, oddio. Quindi cosa succede? In questo episodio il nostro Frank dirà alla nostra Valerie di prendersi un giorno di vacanza dal lavoro, lo farà anche lui, credo eh, sì, lui va al lavoro, lei anche. Quindi diciamo che si prenderanno un giorno di vacanza dal lavoro perché Frank la vuole portare in un posto, vuole dedicarsi, diciamo, alla sua fidanzatina e fargli capire quanto lei è importante per lui. Allora, oddio, lei che cammina così, ragazzi, adoro. Innanzitutto facciamo lui, chiamiamo al lavoro, prenditi un giorno di vacanza, atleta, sì, prenditi un giorno di vacanza dal lavoro. La nostra Vale, ah, Annie, scusate, Gomez, in tutto questo, cosa ha da fare? Lei ancora deve fare il, deve capire quale audizione fare, poi, 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 abbiamo il livello 3 della stellina. Quindi io innanzitutto farei, aggiorna lo stato sui social media, poi aggiungerei una storia su Instagram, giusto così, per, ehm, non far abbassare le stelline e poi io direi che ci potremmo, eh, esercitare nella rechewittazione. Ok, allora, lui si è preso il suo giorno di vacanza, la nostra Valerie sta ancora dormendo, io direi di svegliarla, e di farle prendere, ehm, ovviamente, fai un pasto veloce con farina d'avena, che ci piace. Ah, io non l'ho mai mangiata la farina d'avena, in realtà, così, a colazione. Usa, lei si sta, eh, organizzando, basta sentire il, la rà, lo stereo, vai a pisciare. Ok, e poi andiamo da lei e le diciamo, eh, rallegra, rallegra, vai, rallegriamo, ed è come se lui le dice, guarda, Valerie, eh, hai deciso di non accettare la mia proposta di, eh, matrimonio, e quindi ti dico, prenditi un giorno di vacanza perché ti voglio portare in un posto speciale. E lei, ovviamente, accetterà. Esprimi affetto, amori belli. Esprimi affetto, molto bene, ok. La nostra Valerie, ovviamente, accetta e cosa fa? Aggiorna lo status di social media, aggiunge una storia su Instagram, anche i nostri sim, ragazzi, sono diventati dipendenti dai social, e prenditi un giorno di vacanza da influencer, tanto lei, ragazzi, ha otto giorni di ferie, quindi dovremmo anche fargliele prendere queste ferie. Benissimo. Oddio, non ho letto cosa c'era scritto. La migliore immagine di sempre. Non vedo l'ora di vedere la prossima. Valerie ha dodici follower in più. Alla faccia, meno male che era la migliore immagine di sempre. Fa freddo, eh, ragazzi, fuori perché è autunno. Tra l'altro, ragazzi, sono arrivato a livello 6 di carisma e raggiunto nulla. Dobbiamo fare questi altri due, che spero di fare quanto prima. Tanto abbiamo la domenica e il lunedì, dove lei non va a lavorare, quindi possiamo dedicarci poi ai nostri sim. Ok, quindi viaggiamo, ragazzi. Viaggiamo subito con la nostra Valerie Forrester. E dove la vuole portare? Sperando che non piova, perché, come voi sapete, io non sono molto fortunato da questo punto di vista, in quanto cambio sempre quartiere. Il nostro Frank la vuole portare a Brintleton Bay e la vuole esattamente portare qui al faro, alle scoperte d'erba morta, al museo, dove c'è anche il faro e dove ci sono delle ambientazioni pazzesche. Vuole un po' fare il romantico, essere romantico con la nostra Valerie. Sperando che non piova, sinceramente, ma ci scommetto tutto quello che volete che ora pioverà o nevicherà o farà la bufera infernale, speriamo che vada bene e quindi vedremo i nostri due simmini qui. Oddio, ragazzi! Addirittura fa anche caldo. Benissimo. Imparate a conoscere. Perché ci dobbiamo conoscere, mia cara. Guardate qui, lì c'è il faro, fantastico, quindi un'ambientazione molto carina. potremmo, tipo, osservare insieme la portata al museo per farle vedere un po' di quadri, un po' di quadri, un po' di ambientazioni nuove. Perché è importante, ragazzi, fare anche delle attività insieme. Abbraccia. Poi racconto una barzelletta sui politici. Poi osserviamo insieme anche questo quadro. Lei sta scoppiando, ragazzi, ma lei non è nemmeno nel secondo trimestre. Gravidanza... Ah, sì, sì, terzo trimestre fra 22 ore. Potrebbero essere anche gemelli, eh? Perché no? Ok, osservate insieme. E poi magari... Chiedi di sentire il neonato. Carinissimo. Adoro. Bellini. Allora, loro sì, ragazzi, sono bellini, quindi... Non va assolutamente bene il fatto che lei abbia rifiutato. È diventato buon amico di Valerie. Molto bene. Acquisita l'abilità. Bene. Ci voleva un po' di nuova amicizia. Sussurra smancerie, ragazzi. Adoro. Vuoi sentire? Sì, sì, voglio sentire. Oh, che carini! Sono la coppia per... No, ragazzi, ma sono troppo bellini. Scusatemi, eh. Io devo avvicinare. Oddio, sicuramente questa sarà la... L'immagine di copertina, ragazzi. Abbraccia affettuosamente. Carinissimi. Troppo dolci, in effetti. Allora, proviamo ad andare un attimo... Boh, non lo so, qui c'è una spiaggia. Che bellino. Veniamo qua insieme. Vai qui insieme. Così guardiamo anche un po' di queste ambientazioni. Ve l'avevo fatto vedere nel gameplay, diciamo, di The Sims 4. Cani e gatti. Sì, eravamo venuti qui. Oddio, ragazzi, che belle ambientazioni. Sarebbe molto bello se si potesse nuotare, in realtà. Ma non si può fare. Qui cosa c'è? Cosa fa lui? Come corre? Lei in abito quasi elegante. Flerta. Poi... Chiedi la data di nascita del neonato. Stiamo facendo amiciizia, ragazzi. Che carini. Manda un bacio. Enzi, Kimbalaya, Zomonasero. Condividi un segreto. Carinissimi. Eccoci qua. Andiamo nel faro, ragazzi. Scusate. Guardate qui. Vai qui. Ah no. Vai qui insieme, in realtà. Guardate che bellino. La vista del faro, pazzesca. E beh, ragazzi. Questa cosa io l'avevo già fatta. Mi era già successo con una coppia. Tra l'altro lesbo, raga. Sì, sì. Con... Se non erro, i genitori di... Ehm... Geremia. No, scusate. Con i genitori di... Ehm... Lorenzo Junior. Le due ragazze lesbiche. Quindi con Tessa... Ehm... No. Non mi ricordo. I due genitori comunque di... Ehm... Lorenzo. Questo era poco, ma sicuro. Ok. Amica, ma stai arrivando? Eccoci qua. E lei le chiede, ma... Ehm... Chiedi di essere solo amici. Ehm... Discuti di moda? Visto che ci troviamo così. Gli dice, ma perché mi hai portato qui? E lui, anche se lei è un po' a disagio, ragazzi, le rifà la proposta di matrimonio. Proponi le nozze. E vediamo se accetta. Tac. Aspetta. Tac. Carini. Nuova proposta di matrimonio. Accetterà lei? Chi lo sa. Andiamolo a scoprire. Sì, ragazzi. Finalmente accettato. Guardate che carine. Sì. Voilà. Carinissimi. Oddio, scusatemi. Ci stiamo perdendo le animazioni. Bellini. Carini. Carinissimi. E romantico. Ehm... Fai fichi fichi nel faro. E' ufficialmente fidanzato con Frank. Quindi, ragazzi, siamo ufficialmente fidanzati. Che bellini. Sì, sì. Andiamo a fare fichi fichi nel faro, anche se lei è incinta. Va bene così. Guardate qui, il faro si illumina di rosa. Adoro. Bellissimo. Comunque questa ambientazione è molto bella. Guardate le montagne in lontananza. Guardate, si vede tutta l'isola. Bellina. Molto, molto bella questa, eh, questo, diciamo, quartiere, questa ambientazione del faro. Beh, avete finito. Sì, hanno finito. Benissimo. Possiamo tornare a casa. Così, ora, ci occupiamo, invece, della nostra Henny Gomez. Assolutamente. Andiamo a vedere un po' di, ehm... Audizioni che ci sono per la nostra Henny Gomez. Perché dobbiamo riattivare, diciamo, la cosa. Anche perché, ragazzi, dobbiamo assolutamente progredire sia nella carriera e sia nella, ehm... Nella fama. Acquisita l'abilità di ballo. Quindi acquisito l'abilità di canto e l'abilità di ballo. Tesoro, prepara qualcosa da mangiare. Vai, serve il pranzo con tacos di pesce. Vai, che ci piace. Allora, la nostra Henny Gomez. La nostra Henny Gomez dobbiamo assolutamente vedere quali sono le nuove audizioni, ragazzi. Cosa c'è scritto? Controlla le audizioni aperte. Controlliamo e vediamo cosa ci va di fare. Abbiamo Detective Love, ma l'abbiamo già fatto. Ferramenta l'abbiamo fatto. Vuoto ballo, non mi ricordo. L'alba dell'apocalisse. Questo potrebbe essere molto carino. Perché l'avventura sul mar morto l'abbiamo fatto. Dove alberghe il cuore l'abbiamo fatto. Quindi direi, ragazzi, di provarci con questo. Che, oltretutto, livello 5 di forma fisica. 1200 e 2825. Quindi potrebbe darci veramente tanta roba, ragazzi. Forma fisica a livello 3. Quindi, assolutamente, possiamo mandare, sbagliare la ricchezza, a fare jogging la nostra Henny. Ma come va a fare jogging? Immanuel Castle. Ok, andiamo a fare jogging con la nostra Henny. Passando dalla casa del nostro, anche, nuovo vicino, super buono, che piace a tutti. E io direi, forse, che è il caso di allenarci anche, non dico in palestra. Ora, o forse sì, ma alleniamoci un attimo. Allora, un attimo, facciamo così. Possiamo allenarci qui, perché si deve allenare anche il nostro fratello Frank. Allora, facciamo allenamento, video di ballo, vai. Anche tu, allenamento, video di ballo. Perché anche lui si deve fare, vedete, il livello 3. Che carini! Eccoci qua. Vai, amici. Cosa fa? Ah, lui non si possono allenare insieme. Ok. Lei cosa sta succedendo? Nulla. Ok, lei deve fare il livello di pittura e di scrittura. Quindi io andrei innanzitutto in bagno. Perché se la sta facendo sotto. E poi mi eserciterei a scrivere, che è un po' difficile in realtà. Carriera. In realtà scrivi una guida nello stile del blog. Regista una guida allo stile. E scrivi una colonna sullo stile. Così scriviamo tanto e almeno facciamo. Lei a che punto sta? Stiamo per raggiungere il livello 4 di allenamento. Allenamento, il che va molto bene. Ora Eni può fare pugilato al sacco da pugilato. Può anche seguire il sollevamento pesi sulla macchina d'allenamento. No, io direi di fare delle vasche. Fai delle vasche. Dato che abbiamo una piscina, ci alleniamo fuori. E dato che fa anche caldo. Pur essendo autunno. Anche lui in realtà dovrebbe... Un attimo... Cosa sta facendo? Sta ballando. No. Allora, tesoro bello. Basta allenarti. Oddio, guadagna pochissimo. Si dovrebbe allenare lui. Sai che sta? Ti fai anche tu delle vasche. Tanto è caldo, ragazzi. Ok, lei sta aumentando anche la fama. Dobbiamo arrivare a livello 2, tra l'altro. Un punto di fama. Ah, non possiamo fare nulla. Ok. Scrivi... Scrivi un libro di genere per bambini, sceneggiatura, racconto, saggio. Esercitati a scrivere. Forse facciamo prima. Ok. Lei... Si stanno praticamente allenando insieme. Stanno facendo delle vasche. Spruzza. Tuo fratello, visto che ti trovi. Giocate un po' anche. E poi... Complimento sincero. E poi conversazione profonda. No, racconto una storia sensazionale. No, amichevole. Dov'è? Racconto una storia profonda. Oddio, volevo fare una storia profonda, raga. Ecco, conversazione profonda che conversano, ovviamente, su ciò che è accaduto. Sulla proposta di matrimonio, perché, ovviamente, lei poi si dovrà organizzare. Lei con chi è che sta facendo amicizia in tutto questo? Vai, vai, vai. Cosa sta facendo? Sta scrivendo una colonna di stile. Ma così aumenta la scrittura? Credo di sì, dai. Sì, sì, aumenta la scrittura. Dobbiamo arrivare a livello 7, ragazzi, di scrittura. Non è per niente, per niente facile. La carriera, devo dire, lei è già a livello 7. Però la carriera di stilista non è proprio una passeggiata di salute. È difficilotta. Lei sta andando a dormire in tutto questo. Ok. Anche lui è andato a dormire. No, perché stai dormendo qua? Dormi in camera, non dai fastidio alla tua prossima moglie. Absolutly. Ok, quindi... Lei si emoziona, si sta esercitando a scrivere. Allora, ragazzi, in realtà, io... Tacos di pesce, mettiamolo qui. Volevo, innanzitutto, ringraziarvi perché siamo aumentati e siamo diventati mille e cento. Quindi sono molto contento perché piano piano stiamo crescendo. Oltretutto, ragazzi, ci iniziano ad arrivarmi anche dei messaggi per delle collaborazioni. Già, una ne ho fatta con Cherry Blossom. Oddio, spero di non aver sbagliato il nome del canale. Sì, Cherry Blossom dovrebbe essere. Fatemi controllare un attimo. Sì, sì, assolutamente. Cherry Blossom Channel, ragazzi. Che ha fatto, praticamente, Powerful. Che, ovviamente, parlando, chiacchierando tra di noi, io le ho creato, praticamente, due personaggi. Che, se non erro, sono nell'episodio 6 e nell'episodio 7. E sono molto contento di aver collaborato con lei. Quindi andate a vedere sia il suo canale e sia il suo, diciamo, Powerful. Perché mi piace molto. È una serie, un macchinima, o macinima, non so come si dice, sulla danza. Quindi non poteva essere, diciamo, più adatto. Non potevo essere io più adatto per farli due personaggi. E poi, ragazzi, mi iniziano ad arrivare anche altri messaggi di collaborazione che io deciderò se, ovviamente, accettare o meno. Perché vi dico, in realtà, anche parlando, appunto, con Cherry Blossom, io sono dell'opinione che la collaborazione debba venire fra due persone che, comunque, si stimano a vicenda, o comunque si seguono a vicenda, o che, comunque, abbiano un minimo di rapporto. Io fare una collaborazione, giusto per... non mi interessa. Come anche, ragazzi, il fattore iscritto ricambi. Sinceramente, a me di avere tanti iscritti, ma che non seguono le mie serie, sinceramente non mi interessa. E né tantomeno io mi iscriverei a un canale che poi non seguo. Ovvio è che io sono iscritto a dei canali, magari più piccoli, sempre che fanno gameplay di The Sims, ma che l'ho fatto, più che altro, anche per sostenerli. E va bene, perché un iscritto in più fa sempre piacere. Però, effettivamente, a me piace avere iscritti attivi sul canale, quindi che seguono davvero i contenuti che creo. E quindi, sinceramente, se io seguo le persone, comunque, che mi interessano, proprio ciò che creano, sono contento di seguire anch'io... Scusate, che chi mi segue sia interessato a ciò che creo, perché, altrimenti, avere mille iscritti, ma avere 50 visualizzazioni, sinceramente, non è... non è l'obiettivo di un canale. Il canale viene creato non per avere iscritti, ma viene creato, appunto, per fare dei contenuti. E questi contenuti devono servire a qualcosa, quindi ad intrattenere, piuttosto che a divertire le persone. Oddio, la nostra Valerie, in tutto questo, si sta per fare addosso. Davanti al suo... Poi ci chiediamo perché non accettano le proposte di matrimonio, visto che ti trovi, fatti anche la doccia. È molto imbarazzata. Perché lui è teso? Ah, per l'ambiente sgradevole, ho capito. Eh, però, amore mio, tu devi fare ancora il livello 3, quindi, scusami, ma ti faccio allenare potenziamento muscolare. Va bene, ragazzi, dopo questa chiacchierata anche che ci siamo fatti, spero di farcene altre, perché vorrei portare delle novità sul canale, o comunque, ragazzi, vorrei creare un canale, come vi avevo detto, dove chiacchieriamo di temi diversi da The Sims. Io vi mando un bacio al vostro Enidanzo. Giovedì dovrebbe uscire un nuovo episodio di questo... di questa storia, di The Sims 4 9 Stelle. Sicuramente ci sarà l'audizione della nostra... Eni Gomez, e poi vedremo un po' se lei partorisce oppure no. Mancano 4 ore al terzo trimestre, quindi a breve partorirà anche la nostra Valerie. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate in generale di tutto ciò che abbiamo parlato. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e se vi piace questo canale, mettete un mi piace, condividetelo anche con gli amici, sui vostri profili, eccetera, eccetera. E nulla, vi mando un bacio al vostro Enidanzo, e grazie ancora per tutti gli iscritti e tutto l'affetto che vi mostrate. Un bacione, ciao a tutti!